Si scommettevo il mio mortal alive No, non è mortal alive Eh niente ragazzi ho trovato una cosa meglio del kart, mi dispiace Il carrello Ilias facciamo i cespuglini al carrello Gesù, una scambio equo Una scambio equo dai Vabbè via 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 No, no, no Basta Oddio Asca solo un albero Oddio io e Ilias e Gesù E Gesù siamo abbinati Dai via Ilias, raggiungici No, no, va fa moche Ilias No No Slalom Va vero Guarda come il cuore mi facciate ridotto Sali, sali Vai Dai No, no, nixia 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 Via Via usciamo da andiamo a busciare mai 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 io bucio siamo a mocos verde a mocos verde mai cosa questo a questo sterzo guarda questo sterzo ma non mi guardo lo stesso in in far inciampare far inciampare voleva dire no 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 non infatti a c'è una macchina non l'ho vista domenica perché mi dovete infariare ciao posso giocare si ora stiamo facendo un po turni dove andiamo io so già che voglio per primo no muoio io per primo fidati di me scato che sono sapere fare le scale cosa cosa brutto ok oddio sono caduta una piccola mano cioè non so se tre persone sono abbastanza per chi riesco a portare in chi ha mantenuto in bocca un razzo non vedo niente la mongass che era morto e sì perché fa il suono quando muore bellissimo e poi quando muori c'è quando sei a terra c'è la mondo abbiamo già perso perché ci sono guarda per comando adesso devi fare prendi il wool migliori niente ma ammazzano non lanciagli le granate che ha lanciato le granate fumogene giusto per domanda che secondo te che non ho visto davvero dell'audio che hai sentito prima sì niente niente ma come la live che stava e poi dici no e poi esca tutti ci vuoi degli sport non di far mente ma neanche ceri e qui ma neanche ceri vicino l'ora che alcune liste mi è cresciuta la live io la vedo per un attimo poi adesso c'è perché vedevi riuscire e rientrare dai ragazzi però ma come si fa ma come si fa come ecco aspetta che tolgo la riduzione dei rumori così vediamo che si puoi puoi venire cia madonna mia non mi si è sentito strano esplosivo che mi si è sentito tutto storto tipo no no cioè non mi si è sentito che stavo tipo urlando cos'era questo urlo ho letteralmente piccato il microfono del telefono in gola c'è mangiato hai abilità per questo allora no tu non ce l'hai come il mio il mio soggetto vengo anch'io genio 15 minuti sul sì perché sì perché sì perché no come che era che non è meno signori un attimo di silenzio un attimo di silenzio allora innanzitutto ciao luke facciamo che attivo direttamente la cia trovare di forte perché se non siamo in troppi su discord come faccio è vorrei la mia solo asta e sì sì sono io sono io voi magari mutate mi ecco 54 tipi di tiktok ma io già ciò adesso vi farò un po di pazzo e gesù fa un po di smr inizia ti viaggiano di asma no è buono baggi tutti regalano una forma da 200 post il tuo serve di scuola e non posso farci unire luke perché siamo già un po in tantini allora chi è che schienpa schienpa nixia schienpa nixia e lias anzi no aspetta siccome il caro cactus ha già fatto dei game nixia e cactus schienpa così gioca il signor dico già questa cosa io non sto come si scrive di sei a computer e da switch io deve mettere salta nixia e io non ho nixia perché io perché tu hai già fatto team ieri ho fatto dei game che c'entra ieri ieri c'era comunque questa stagione ma che c'entra questa però si chiama misticanza e non va bene di inizia allora no qua sto facendo legalizzazione scusa neanche gesù ha giocato ieri e poi gesù schippa sono ragazzi che voglio fuori ma no se mi chiedete a me di schifare non so come schifar da quindi te lo spiego io da intendo io sto cercando poi comunque team rambola che serve che schifiamo è un po appunto e no se me l'hai messo se mi si mette penso a squadre no se non ti skip non si mette ne posso arrivare non devi schifare tu gesù di schifare insieme ma solo per come si può dare la live tra vedo ancora ora gesù praticamente visto di dove per invitare le persone no hai visto che tipo c'è il coso col tuo bellissimo avatar e tutto quanto ma per un attimo ok ecco se vedi c'è tipo stato online partecipazione quando c'è partecipazione di metti salta non si vedo what ragazzi le vicino occhia portatoia no però io se l'ha venuta adesso e io sarebbe diritto di giocare ma posso anche saltare questo suoi niente e si è sacrificato madonna perché io sono una persona onesta a differenza di inizia a ban aspetta c'è qualcuno che deve mettere salta signorio grande bellissimo ah 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 van giocando perché ho scelto di saltarla io è ricordati queste anche ferie di a schifare che si è fatto due di in prima no ragazzi però io mi sto riascando adoro il fatto che ieri non ci sono stato per un'intera giornata che c'entra ma qui comunque questo gioco viene menzionato io non ci sono da una settimana no way non non me l'ha mai detto nessuno guarda in effetti non è stata la prima notizia che mi sia arrivata che cosa che dire che sono stato assente per una settimana si è un'importanza così a così elevata certo no ragazzi noi vi darei un bacino a tutti davvero io scappo in brasile allora non riesco non in sia gesù e giocano gli altri due che loro giocano non possiamo fare creativa così ci siamo tutti allora che cosa giochiamo a fare a forte oggi anche questo è vero noi giochiamo per forte oggi perché è forte mamma mia mi sta no c'è un rutto fortissimo aspetta ok aspettasca che cambio skin mi metto la sbrodolona con le corna perfetto gesù dopo ti voglio chiedere se mi fai un disegnino tipo? eh devo chiedere in privato perché è nsfv? no 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 però devo chiedere in privato io ho paura dei disegnini che mi chiedi eh oh no se mi chiedi un entai tra te e blu ti dico di no è il mio rispetto guarda è il mio rispetto tranquillo non è questo comunque la se invece è uno tra me e blu potrebbero cambiare no fede tranquillo dopo giochiamo anche faccio giocare te e nick insieme perché faccio saltare a nsia e gesù quindi giocheranno io se se lo si farò sempre con me scusa si fa la serenità dopo di che salteranno fede e coso ok allora qualcuno venga ma come qualcuno venga ma no io ti ho detto dopo next game salti ah infatti ma dimmelo prima ragazzi scusatemi e li ha sentito io parlo arabo si ho detto letteralmente mettiti in sitting out adesso boh io non ho capito e poi mi dici per il prossimo game cosa cosa mi sta a significare io direi santa trinità ragazzi viva gesù comunque avete fatto il trio il trio il trio siete in tre nelle squad eh ma siamo noi siamo più forti tornati in lobby inizio se no facciamo la trinità io te e blu no come no la trinità il trinomio speciale allora facciamo così viene viene fede adesso a giocare no perché questo genio di lias doveva mettersi lo skip e poi avete messo le squadre ciao e lias puoi mettere santa grazie mille ole Elias cosa mi stai dicendo prima nulla eh cosa mi stai dicendo prima si io si che c'è una cosa da dirti ed è suuuuucca Gesù Gesù l'ha presa sul personale si troppo non mi mette non l'avrei detto pure io ma con la U lunga è molto più bello tra un po' Gesù le parole tra un po' bestemmi eh Gesù ti sta trinendo no no solo Gesù solo Gesù no 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 Nixia fidati che mi sto trattenendo perché non so se ti ricordi quel bellissimo audio sai no no fidati che pure io mi sto trattenendo eh eh sì no guarda che prima ho mandato un altro audio ad Aska dopo sì io mi sono accorta di avere il volume abbassando le cuffie il volume del pc a 100 Nii Nii metti pronto infatti no vorrei vedenziare il fatto che Elias prima mi stava dicendo una cosa vi mando in una privata vi parlate non lo so io no perché dopo mi dice che disulti gli canti da tarantella versi dei goblin no ma come ok ti offre da bere me Si sono un bestimiale che tuo padre si arrabbia Quando mai l'ho fatto? Avrei da ridire sulle chat è avrei da ridire sull'audio che ho mandato Ad Aska avrei da ridire su moltissime cose in realtà perché non mi mette aspetta un attimo andiamo qua aspetta un attimo riesco prego ragazzo no, come lì è brutto deserto deserto è brutto deserto cos'è ci sono trini sta cosa dimmi se sono un'impressiva mi sembra più piccola mappa no perchè prima ci sono i limiti ci sono i bordi anche se non venire lì per spazio è vero e poi adesso puoi nuotarci nell'acqua prima no sì almeno suppongo si puoi notare nell'acqua assolutamente si guarda non puoi l'antolto siamo messi sono cinque ti ricordi ma chi che ne so io ma in cittadini siamo ritornati indietro nel tempo allora non puoi andare perchè puoi sfidare allora e saltare i muri ma che ne so io questa cosa si hanno tenuto perchè hanno tolto le macchine perchè hanno tolto le macchine e per andare più veloci almeno sta cosa la tengo insomma ragazzi io l'unica arma che ho trovato è 30 di mattoni buono c'è un po' c'è neanche dire ho trovato un pompa bianco senza munizioni ma veramente perché mi si era pagato ma perché finisce sempre con delias morto perchè non si può nuotare perchè gesù dopo di voi far far provare una cosa c'è devi attirare nell'acqua ma dopo facciamo che cosa democreativa io ho tolto vita io ho tolto vita io ho tolto vita io ho tolto vita ma se fa qualcosa possiamo fare qualcosa di democreativa io ho tolto così tanti già se vanno bene ma ma no ragazzi mi ha fatto 230 miliardi con il pompa oro mettetevi pronto è durato letteralmente manco questi millisecondi tutta sta roba posizione 23 come è possibile che sono passati 30 secondi 30 secondi sono passati sì ma sono morte 80 persone in 30 secondi sì come è possibile perché in sto gioco sono sono riusciti fuori tutti i tryharder che giocano dalla season 1 letteralmente si è tornato anche ninja con i capelli azzurri si è rifatto i capelli azzurri perché ha detto ninja si è vero vi sono live oggi lui è ripartito in full tryhard sono tutti i partiti in full tryhard anche è tornato anche mongrel erano 5 minuti no si era mongrel si si è tornato mongrel con la sua bella barba cioè prima giocava fornit senza adesso ce l'ha si c'è mongrel è partito giocare a fornit che era un elettorale perché sono partite di sa squadre perché noi siamo in ma noi siamo in ragazzi abbiamo la bittra di tutti i nobby facciamo il no 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 pronto l'odio a gesù così a casa così a casa sono alzato perché mi fa mal le gambe quindi mi si sentirà tipo lontano credo un po aspetta come mi si sente adesso dalle becrums siete ancora in team siete ancora in team rumble vinci ti si sente ti si sente ti si sente perché fate risa squadra boh ma ora le battaglie reale qua le battaglie reale ma dopo se può fare di odio così tanto vero hai visto se mi sei gioco si ma se giochiamo a fortnite oggi cosa serve creativa ci sarà per un motivo ma facciamo giustonantino shield ma mica facciamo tutta quanta la live di creativa decide asca direi io la risposta di asca direi abbastanza esplicita C'è questa season C'è la dobbiamo vedere tanto Io ve lo scordate tutti Grazie alla creativa si fanno i livelli Ci sono le missioni riguardo alla creativa Le missioni le puoi fare anche in creativa Le spi si guadagna soltanto in creativa Ho capito calma sei chill Tutti i livelli li fai in creativa con i glitch Sì Allora facciamo un attimo una cosa Chi non gioca non parla per favore si muta grazie Ah soltanto puoi fammi stare zitto No è anche lì assi tu Sono d'accordo con un blu Sono d'accordo con un Gesù No aspetta aspetta Devo ricercare il nome di Di Ninxia che non me lo ricordo Aspetta aspetta Eh non mi ricordo Guji giu 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 Andiamo a Gerusalemme Perché volete andare a Gerusalemme Ma io devo portare Gesù da dove è venuto Ma io ho visto adesso come si chiama questo Andiamo lì dove ho pingato Lui ci deve tante spiegazioni Ragazzi io lo banno Cosa? Chi? Eh? 3, 2, 1 Ho avuto la stessa idea cosa? Non fate strani Trani countdown Capito? Ninxia fai un countdown di 5 secondi Ma il countdown è recentissimo Due novembre Quale? Fai un countdown di 5 secondi Che cosa? Cos'è successo? Come si fa da PC? Come si fa da PC? Da PC c'è soltanto il time out Banno Ah Ma aspetta ma qua non c'era mica un ponte Ma? Aspetta un attimo Si sta in time out No ragazzi sono volato per terra Dai Oh my god Stai in auto Funziona Chi è Ale? Chi è Ale? Benvenuto o benvenuta È un fallo nuovo È arrivato adesso Dovessi fare altre Altre reward Mosca arriva da te Perché io sto avendo un po' tanto denaro Ah no Vanno da fede Eh non so dove fare Di cosa mi sono perso Chi devo bannare? Eh? Ma è Casper Tu non puoi bannare nessuno È diverso Salve Infatti Casper Dai Atle MC Eh 3 MC Ah sì Perché mi spara? Che cos'è Atle MC? Un server di Minecraft Loaner Eh sì Ma GG No I I I Ma quel vampo fucile è epico? Sono easy E' però E' però Nix C'è ragione C'è nix C'è ragione Nia Si ho detto Mutate Vi mutate Tutte e due Oppure Nias Si rimette Il microfono E' però E' infatti non ho piedato nessuno di voi E' ehm Rias torna a parlare No Lui rimane con il muto No Lui non ha i diritti Chi avevi fatto Ias No Ragazzi Sono scappato un attimo Perché c'è stato un'intrusione E mi sa che lui non c'è diritto Per parlare Cosa vuol dire non c'è diritto Ah ecco Cosa Cos'hai visto? Deve andare a Deve andare a urinare Il bro Esatto Anche io dovrei Però Non posso Ragazzi O si gioca al game O si fa un'altra roba Siete pazzi No 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 Mi sono buggato No ragazzi Mi sono buggato Madda Ma sai che c'era quel glitch della quick weapon Io voglio provarlo Della? C'è una C'è un tasto Che hanno messo Che si chiama quick weapon Ah per fare double pump Sì Ah Ma C'è che è morto Ma c'è un tipo Qua da me Ah ma c'è un intero tipo Qua da me Io voglio provarlo Nick pollo Nick pollo È morto È adesso Nick è un pollo Nick è un pollo Qua non ho capito Perché è venuto L'owner di Atla Eh? Non ho capito Perché è venuto L'owner di Atla MC Mi sa che c'è ancora No non c'è C'è un pollo C'è un pollo C'è un pollo Federico Ti vengo sotto in scena C'è un pollo Signore Che è niente Che sa dove abita La screen mi offenda Mi hai fatto installare LOL Ti ho fatto installare LOL Ci abbiamo anche giocato oggi Non lamentare E poi comunque c'è una lunga serata Ancora davanti Infatti C'è una lunga serata Mi ha detto come se Eh Dove si parla a 3 8 ore Masca quando è che fai le maratone Facciamo la live E la maratona Capisci Quando fai le maratone Quando vedo che c'è gente che dona Perché per fare i maratoni Devi donare Ti ricordo Eh sì lo so Però Se fidati che se qualcuno vede la maratona Altro che dona Ci sgancia Big money No mamma mia Entra Com'è che si chiama Quello che dona a tutti Fieric No è stata Fieric Ti dona 30.000 euro Devi fare la maratona di 7 giorni Fieric Fieric Si entra Fieric Anzi Sento Sento quando esca Fai la maratona E vado Vado a contattare Fieric Dico Oi Guarda sta live Guarda sta live Dona i milioni Così Non finirà mai questa live Live infinita Poi mi dite che tipo Maratona finita male A scarponi finita Non si è pedale Pronto soccorso Perché non si alza dalla sedia Per ore Per 3 giorni Ma no Perché con i punti canale Poi alzarti dalla sedia Vero Ma vero Potresti sgranchirsi Eh si Ma ragazzi Io comunque sto facendo Le peggio kill Perché Mi stanno pushando Non so Ma voi dove si Per esempio Dell'impresa No no E' Fede che sta andando A fare la big impresa Tipo Stanno andando a prendere le card Esatto Che poi Non so se definire Il rampino Uno dei mezzi più veloci Io so che poi Alla fine c'è la katana La katana quella mitica Era molto veloce E adesso non c'è più E' tornato i rias No se non tornava Entro 20 minuti Penso che lo davamo Per disperso Per caduto Nove spect Oh Benvenuti Salve Benvenuti Veramente C'è stato veramente Un picco Un picco all'insul Ragazzi mi sono fatto un full team Ragazzi mi sono fatto un full team Ragazzi mi sono fatto un full team No mamma mia Mamma mia Alla fine siamo sempre noi Quelli che pushiamo Ragazzi ho fatto un full Ragazzi Mamma mia Mamma mia Ma chi ve lo fa full team Ma chi ve lo fa full team Niente mi sta distruggendo Non ho armi per competere Con quel bro Mamma mia ragazzi Ci sono tre spec C'ho tre spec C'è tre fighi di spec E mani a tro Mamma mia Ascati ci avvolgo Le dita dei piedi Con lo spec Buono Poi te lo mangi vero No che schifo Mi sicuro di schiacciare la La cacca dei miei gatti A un mio amico I gatti li hanno cagato sul pire Mentre dormiva E' stato molto divertente Sì Abbiamo dormito per terra Come avete dormito per terra Serious No voglio Voglio un attimo capire come Perché se tu hai risveglio Se mi so la scena No non l'ho vista la scena Stavano tutti dormendo Questo C'è A lui anche Ti giri Ti trovi il bro Quando Su La merda di gatto sul piede Sul piede Ma che è successo Ma beh io ritorno a dormire Sì ma tu non puoi capire È stato bellissimo C'è lui che si sveglia Con la merda del gatto sul piede C'è Lui aveva i piedi nudi Che schifo E anche con le calze Quindi era proprio E io Io avrei non vomitato di più Nixia Eh Ho nove kill C'è Scusami un attimo Hanno già fatto update Quale è stata la reazione Del bro Si è svegliato E beh Prima cosa era un porco Secondo era Anche porca E poi niente Si è lavato Quante volte si sarà lavato al piede Non lo so Oddio ma immagina skin Io mi immagino voi Che tipo state morendo da ridermi Che tipo Ovvio perché i veri amici Ridono sempre Non aiutano mai Io ho sette di vita Sette di vita Sette di vita Sette di vita Se non esco da sta cavolo Mi sei Cinque Sono uscita con cinque di vita Corro 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 Lo giuro Cioè penso che siete morti da ridere voi Sì noi stavamo ridendo Proprio c'è da pisciarci addosso Immagino Ok ragazzi No sono troppo forte Come si portano il G No 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 Come è possibile Cioè Asuka Sì Non facevo mai kill È fortuito G Che ti devo dire Fortuito G Ritornare Ragazzi Ragazzi 14 kill Minchia Gesù 14 kill Ok Gesù ma calmati Ma come Non facevo neanche una kill Prima Quanto ping C'ho io adesso Scusa Così c'è La in quanto Eh cavolo 50 Ci vai avanti 50 e 30 Vbs Fai 25 Perché Ah beh Sto attento Ascolta Mi sono creato in mano Stasera Oddio non globo globo Mi gusta Che Nagnam Nagnam Ci sono tipo Troppo forte Con Come che si Con Lo scarco E lo silenziato Gesù Gesù Fermo Mi servono Non le occure Cos'è Che Nick 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 Veda Gesù Io nixi appena vedo qualcuno Si pusha Bravo Poi appena sento gli spari Ma sai cosa Che con forti Toggi Non so perché Ma la mira aumenta Non so come se è possibile No Ma anche i livelli Sanno così Vabbè Vabbè che adesso Il livello massimo Non è il 100 Ma il 70 Cioè Del passo No è il 50 Come il 50 Non è il 70 50 Vabbè con tutte le ricompense Intende Eh si Ah tutte le ricompense Allora si Vabbè se il 70 È fattibile in un mese Ma che in un mese Ci impiega anche una settimana Se vuoi Veramente Se ci giochi Poterosamente Ce la fai Gente da me Io domani ci arrivo al 20 Come da te Da fede A parte Io sto già al 6 Ci ho giocato al 5 Io sto al 14 Tu ci hai giocato anche ieri Ti ricordo Morto Ho guantappato uno Appunto Io sto dicendo I miei giorni Sei già al 14 Carmo c'ho Cioè Vabbè tu non hai neanche fatto Tutti Mi attirisca Appunto Già sto al 14 I miei giorni E devono ancora uscire Le altre missioni Sì che è uscito È uscito Rias Come genio che è Ma non è Rias Andrà a ripescare Comunque io c'ho 7 di shield Ragazzi Bello Che è successo Mo' di sicuro Scrive in chat Da parte che ha scritto Aska Poi se n'è andata Non lo so È vero io Stimi Dicami Se n'è andata Non sono visto E là Ma si stanno fermi Finalmente È appunto La loro madre E adesso danno Anche più roba Prima facevano schifo Conolo piccolo No piccolo Non scappi veloce Buono Gesù No Basta Me lo godo fino all'ultimo Ok Ti è in Gesù per te Aspetta Ok per Gesù Chi è che mi ha rubato l'arma No chi è che mi ha C'era una Un'arma blu Io non l'ho presa La mia Ladro Io avevo Avevo questo Ladro Spari 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 Dai andiamo Mi spari Andiamo Mi spari Non sentivo Spari 1999 Da secoli Ormai Cosa? Il suono Spari 1999 Che ora è stato? Mamma mia Mi hanno laserato Indovina Questi qua sono 3 yarder Ma va Non l'avrei mai detto Eccomi Elias Perché lei ha un qualsiasi intellettivo Ah ecco Ragazzi c'è gente sopra che continua a fare avanti e indietro con la zipline E questa cosa mi dà il quanto fastidio Hai crashato Cacchio 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 Ho sbagliato Cavolo Cacca 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 Non dovevo pittare in alto Tutto tranne quello Oh shit Porca miseria Che cavolo è stato? Non lo so ma mi avete inchiuse Mannaggia t'inizio Mi servono pure La gente tutta là sopra C'ha l'iground Io ho Senti che non ti lanciate Io ho la scorta di punti Io potrei continuare così per ore Ma io mi prendo qualche rift sai No ragazzi E' una grattifica per le persone che hanno più punti Perché io ti sicuro sarei Eh non è che la posso fare io Se esiste le estensioni di Twitch si Se no no Quante ne hai inizia? 26 No 26,8k E ho appena spesso Ma dai io ho 16 16 16k Sì sì Ah ok Ragazzi sto pushando un team con 52 di vita Che poi Quando spendi i bit Non si vede C'è una chat Ah no Sì 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 Si vede C'è scritto cheer Eh va bene Ma no Gli effetti Sono Sì che si vede Io li vedo Vabbè tu li vedi Ragazzi io prendo questo momento di morte per andare a urinare Eh immagino ci rimarrei per mezz'ora No no Vado e torno Dove siate voi altri due E Stanno giù Come c'è finita la tua carta di sotto? Lo so Capisco Io ho tanta paura E ho tanto paura Eeeh L'ho maturato 1 2 3 4 Guarda lì 4 Erius Eh Ok Ci sta sistemando le cuffie Sento dei respiri profondi Eppure io Questa che erano i miei Che senso che sta una sniffa? Provabile Che senso? Inizia a aprirla a certo del gioco Va bene vai pure a dormire Tranquilissimo Non lo dirò mai Chi hai detto? Chi hai detto Di gambare gambare senpai? Vabbè Se io arrivo e sento Gambare gambare senpai No è Elias che ovviamente è un genio Si deve spiegare nella chat A me Dirlo Però non l'ho detto E invece lo dice Asuka Gambare gambare senpai No 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 Mi spiego Che ha scritto N In chat N nella chat di ford Ti ha scritto N Ah Elias E indovina Nick che faccia ancora? No 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 Elias 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 Sei già come ne procede Sei già come ne procede Elias C'è il grilletto Elias C'è il grilletto Elias 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 Abbiamo il grilletto pronto Perché durata della sospensione Sono 9000 minuti Elias Hai quattro pistole puntate Quanto sono 9000 minuti? Oddio So che 8600 sono un giorno Due giorni Quindi farò 8600 minuti Elias Devi stare Devi fare Attention Ma aspetta Ma adesso Devo io Schippare? Eh Sì Non credo C'è una parola Questo Sì Che è una parola È una parola Cosa ho messo? Necrologio Che cos'è? Necrologio Ma non sapete cosa dire Non ne ho idea È che io qui mi intenevo Più stupido Aspetta No no Che Un sito che permette La pubblicizzazione What? Senti io ho appena iniziato HTML Masca? Io ci sono No masca Ma hai visto quanto è diventato bella La chat di Di instagram? Sì È stupendo Allora Mi metto pronto Però vado in bagno Quindi Non fate casino Non dite parolacce Altro Gesù conto su di te Anche su di te nix Vabbè ma io Massimo che dico Massimo che dico È suuca È quello si può dire Vabbè sì Beh Poi prima che ti banano Passeranno i mesi No Ma E non sto scherzando Ok Se almeno Non è un content Molto Molto pesante I banano Dopo Dopo C'è un arco di tempo Proprio Prima deve arrivare Report Poi deve arrivare Poi deve esserci La verifica No mia Si grida Si grida Una Si grida Una Gr Fortissimo Perché Ma Comunque Stiamo startando Team Rumble Cioè Non vorrei dire Come Team Rumble Sì Togli pronto E lo vedi Ah ok Questo è capibile Team Rumble Benvenuto Io posso dire Basta che Asuka Non apra la chat No È bello Che c'è L'attiva L'attiva L'ha lasciato così E appunto Sì ma quello lì Quello lì Cioè È ancora Buono Basta che quella C non diventi Una G E poi è tutto A posto Nick Tu non Dici Niente Nick Sei sotto Minaccia Da tre persone Mincia Devi mettere pronto Nick C'hai 8600 minuti È Team Rumble Non devo mettere pronto Metti pronto È risa squadre Ah ok Va bene Capito Grazie No no Io devo Io lascio Che Se ne accorga Lei Nick Ti becchi 60 secondi Perché lo dico io Facciamo 30 Casper Ti banno Che uso Di potere No I am kidding Sorry my man I like you Come un casino Cosa abbiamo fatto Tornata Thanos Come torna Thanos No Non posso tornare Thanos Era season 4 Quella No Si torna Thanos Lo stesso C'è vero No non dico Cosa Ragazzi è andata via 5 secondi What Avete fatto un casino Io non so di che casino Stai parlando Però Che è successo Un numero di batteria Del telefono Questa assolutamente niente Se vedi che Riguardo la live Voglio vedere Che ho fatto Puoi anche guardarlo Non l'abbiamo fatto Anche niente E comunque Devi Togli Pronto E vedi che bellissima modalità Stavi per avviare Andiamo Ci so squadre A sto molto Tanto Mai Ma poter Ma poter Farlo prima Gli Sa che ti avevo detto Asca ti tiro Le sarmale Pure io Non ho messo Che sono buone Le sarmale Ragazzi No no Io domani Vengo con un pece Uno schiaffo Cosa Uno schiaffo Con il pezzo Così Hai presente Tipo lo schiaffo Quello con la piadina Hai presente Quello E' molto Contraddittori Lo schiaffo Il pezzo No perché Guarda che domani Che pensi Vale Ho fatto che Io non Si Caduta Qua su tastiera E telefono Sei fermo Inizia Masca Si Proprio Una Barabara Tra la mia Tassiera Guadagno Tranquillo Tutto Guadagno Qui Stai per un attimo No Almeno una volta Sua tastiera Mi cercato Il latte Quando l'ho smontata Completamente Ho trovato I residui di latte Dentro la tastiera Ti dico che L'ho smontata Completamente Dopo un anno Non mi sarò Mai fermo Quindi dopo un anno Rimosso Completamente I residui Quell'anno Perché Io non sapevo Ho coperto Trinomi Mi dico No Ma perché Sei una terresta squadra Perché si Ma se ci pensiamo Dove andiamo A fondo stantio Dasti di bot Di pot Come Cazzo Dice Che sta Che sta Dicendo Mi hanno minacciato Che Così avete detto Ma non è vero Mi chiede Non è vero No Non è vero C'ha le visione Ah si Che lo banno No Non è vero Non è vero Non è assolutamente vero Adios Adios Elias 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 Stai attento Perché puoi fare Una brutta fine Elias Elias Vi stai Gesù e inizia non mi dicono nulla mi puoi spiegare brevemente cosa è successo minacciata che lo che dicono parolacce le stavano dicendo è la grammatica mi sta dicendo cosa cazzo sto io dopo riguardo la live so esattamente a chi ora sono nata via sì io sento che ha detto così voi mi sentite dopo avete minacciato io lo so vero non abbiamo minacciato niente io dopo riguardo e finite voi male ma no c'è sempre la mia burla degli 8.600 minuti ma cosa che sia tanto minimo banni di 600 quindi se c'è pure poco ma dai ragazzi ma c'è una banana a gelato che mi ha saltato in bocca ma sparato ma da risponare sì io sto ancora a carico se vedete ancora carissimo amico nick ma io sono un po riservo nick no io aspetto che muoio è diverso e nix stiamo su avvisse nel certo di corto così l'ho letta la chat di corte nicchia allora è un problema io non ho la patente quindi tieni conto che finisco negli alberi che volate sugli alberi con le macchie gta raga gli è finalmente aspetta misi bro che un cupido venghi venghi no non posso dirlo che c'è cosa che scatole non posso dirlo mi sembra lo gnavo tu lo vedi non lo vedo più è perché io non l'ho preso sentite mi saranno pure io ho te 43 capi ma me che non i nick 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 ridammelo subito nick no non questo l'altro non so che lo vengono no nick 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 mi sta bullizzando eh ma chi è quello nel kart io davvero perché lui sta a parte no lui in un altro team però lo stanno a push a ma che perché c'è anche gesù si andiamo pulitare gesù no ma non cagano ma ma ho capito noi siamo in team da 4 ok però gesù comunque fa sempre parte del nostro team perché su team da 50 verso 50 ornei troppo non poter dato a prenderlo e l'ho già visto prima io tu non mi chiedi a fare il serio inizia fa il serio ma nipi ma nipi ma nipi ma nipi a scusa voi prendere che prendi solito in boi a qualche qualche o qualche o io io masterizzato o pari cari che ho dovuto aiutare non è più di su guarda tu puoi vedere i miei ping e no porca miseria il gatto sulla scrivania riusciti butto fuori ma sta parola che con aioli 3 a 2 ma che cos'è successo il progetto è incesso 3 a 2 15 una partita senza eliminare l'avversario mettete io ho fatto una che io ho fatto tutto una melodica mi chiamano c'è cosa è successo non i cronici abbandonata e no deve andare va bene tranquillissimo buonanotte e niente abbiamo perso un altro spottato è colpa di inizia chi c'è il oh mio dio no ma io e lì a stavolta c'è vorrei veramente prenderlo dalle gambe trascinarlo in un burrone pure io buonanotte nick ti auguro un buon sonno buonanotte notte 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 ma siamo in quattro mistico aspetta che ritorno donzella facciamolo tutti i gatti aspetta fai vedere quello là sono colori tutti quanti blu rosso o rosa tanto io posso fare mistico il colore io posso fare solo rosa come colore infatti tu rimani con skin diciamo noi che dobbiamo cambiare che cosa dobbiamo diventare dobbiamo diventare di altri colori dobbiamo diventare gesù ma che skin quella che vuoi basta che sia la skin io la mi tengo marshmallow no eh io quindi con lui è un schmello che sia blu rosso il mio è diventato la mia schiena è diventata spider o dire se vuoi il galaxy ce l'avrei pure ora che ci penso sì ma io intendo per gesù eh c'ho il galaxy rosa io c'ho rubino aspetta no questo e questo ecco e io potrei essere così ci sta è tanta carino ma aspetta siamo ancora lì sta squadra a scarponi non voglio fare una testa squadra ancora anche questa squadra io vorrei io vorrei aspeggio questo adesso ci penso ciò quello cromatico aspetta un attimo aspettate che si è finita di fare casino con quel tappo non penso si sente in live però sta facendo il casino madonna ma chi sushi magna lo capitevoli aspetta 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 cucciolino mio di gattino nel forno no il sushi si mangia crudo sì ma sai il gatto crudo non è molto certo boh lo mordo mordo il gatto prendi su usciti di un morso su sulla zampa gliela strappi via dai lì sono le ciali così ma anche io sono meccato per metà e rias è totalmente a caso in s per fuori puoi abbinarti e gli aspetti mescoli cosa tipo vicino a loro ma la sua chi mettermi che schiena mi devo mettere qualcosa di più soft come me gesù perché non mi sono volendo aspetta gesù facciamo il team ma io sono io sono trasformer ma anche senso ci sono tutti quanti abbinati adesso prova a metterti rubino classica scusa non sono se non si va bene mi sta dando un po gli occhi mi sta andando un po gli occhi voglio vedere se no che ho capito capito cosa vuol dire rubino classi perché non si rubino questa nix e tu sei scordinatissimo con noi ottimo sì perché ti metti a me che io mi metto a gesù ma io in realtà c'ho tutti i colori della cobalino di sono cromatico no 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 inizia una cosa di più soft più sesso soft sto cavolo e ti qualcosa di più più né soft ti non esiste qualcosa di più né sì che esiste avvicinati un po più a noi sembri e sembra che noi siamo alla mi fa pensare a un meme che ho visto oggi ho visto il meme tipo tutti quanti oscuri cavaliere oscuri no tutti più o meno simili con skin diverse e arriva il pesce ci fa intervengo io qui aspetta e quindi un po il colore quindi aspetta se faccio tipo così ti giuro vado sulla cronologia vado a cercare quel video non per dire ma il pesce la skin più bella mai creato sbordi concordo anche la bananita una buona vita ingombrante il pesce no vabbè divento spider meno capito non ce l'ho vabbè no alla fine gesù e mezzo spider man c'è la fine ragazzi e quindi poveri sì veramente ma io ti spai come no tu sei spider rubino c'è sta no io c'ho pure prowler di spiderman questa ragione inizia deve mettere pronto quando la capirai e casper che dicevo scercando di customizzare sta cosa da farlo diventare soft ricassi anche l'interno di stimo skin ho vissuto anni e anni io senza skin cosa ti lamenti ai 3 miliardi di skin io ne ho tre non tornerò agli albori tra cui i due skin sono gratis e una no io non tornerò agli albori io ho fatto il set a spider man perchè ti sei fatto il set a spider man perchè non è possibile fare il set soft con questa skin si che era fattibile prima andavi bene ma io giuro nel senso prima quando ero cromatico no raga ma Elias è blu secondo me potrebbero andare d'accordo fanno il match delle scime e il match degli unicorni no no mandaloriano buono anche il match del mandaloriano no 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 e che uno fa tutti quei match strani sì blu se ne scegono l'unicorno io non ricordo vabbè io ho fatto un misto adesso sono un po nero un po blu un po rosso per una combination un po mistica e si oddio mi sto trattando l'interno dell'occhio non chiedete in quella fine pure bello colore dimmi se ci stanno siani siamo ciao mi sa che non sono abbinato con i colori io si manda loriano ma tu sei da tu sei letteralmente un'altra persona ma perché qua perché la mappa che mi serve insomma andiamo in culo appunto cioè non possiamo busciare in inizio però poi andiamo qua e puciamo io vado parco pacifico certo sei andato più basso ma vuoi imitare a me nella partita del precedente no gesù si è andato un po troppo in basso ma dici dici dice no io arrivo a parte pacifico prendo un go cup e arrivo da voi anch'io no no usa la zipline genio c'è la zipline e to lagando ha trovato già uno ragazzi siamo iniziando a fare più ore di live ora che ci sto facendo casa da un'ora siamo passando a fare le tre ore è perché con questo è meglio è perché fallo di sere è meglio c'è più tempo prima anche di sera staccavo subito vi ricordate sembra che sto riuscendo ragazzi sono solo non c'è spugno scrivo qui con lo scar questi scar sono arrivato quando fronte al crollo lei ria sarà interessa facciamo una cosa verde sono se non c'è spugno vai nuova cover del canale se non se non c'è spugno ma qua non avete notato nulla ci sono stato di casso ragazzo vuoi ton vino in o no sì armi 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 non è quello buono te lo dico no ma il fucile ripetizione è fortissimo fa 243 net io spero è un colpo io ho capito quale e asca e as portami giù in acqua che state facendo io i 360 a quanto pare io ho rotto il claxon non si sente più che sì che si sente sì però lo sto spumando oddio c'è spugno che cammina micarrello tu stai andando? no asca cosa devi fare asca 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 ti sei spaventata no asca 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 ti prego ti prego ti prego no aspetta torna la guida dove sei? c'è spugno devo prendere il gnomo devo prendere il gnomo aspettate no 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 dai ti prego adesso io non mi salgo sono morto è morto no 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 in più una scheda di riovine anche se ho dovuto andare a prendere che bello no 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 è una persona matica eh? è una persona matica è appunto è quello che ho detto dai tanto ci abbiamo qualcosa per riavvia qua mi dispiace mia sempre tu a fare le botte fine ma dentro sto lama è una casa c'è cos'è? io ringrazio almeno che ti sto facendo dentro dove scusami il lama è una casa dentro ma no siamo in piedi maledetto si fa così ma non ho rimesso lama di ferro sai che fate tutta brutta fine adesso ragazzi qualcuno deve prendere questo io cosa deve prendere? no il carrello il carrello il carrello il carrello il carrello fa una brutta fine lui perché mi sta parlando a piccolare nix 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 anzi no mi vado con Aska vai 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 va con me gradimento oi 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 Aska scappa ah nix nix si fa su guidare io scappa da questi beceri umani no aspetta guarda che per la fine chi faccio qua no Aska Aska usare tecniche dello schivas ston godo Aska spingi Aska spingi che sei ricostruito? e nix non vai sabato no non ho più materiale vai Aska vai Aska no c'è un casino vince la safe vince la safe vince la safe vai Aska vai 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 Aska vai Aska vince la safe vince la safe ok andiamo scappa che stai facendo se magari non lo piccolavi prima no la safe e grazie al cavolo che stai facendo? stai fumandomi dentro blocco blocco dai Aska spingi spingi Aska spingi Aska spingi Aska in salita in salita non puoi non puoi premere il turbo diciamo vai Aska e ho capito se non lo premo mica sale aspetta aspetta da prendere mazza andiamo 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 ma schermo come guidai? sto in un dorito no ah 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 io colpisco un po' gli alberi aspetta che prendo un po' di cd no non mi prendo più niente vai lasciati siuuu oh c'è ah no niente eh no sennò io intanto lo faccio quel moschettiere di Elisa di Elisa di Elisa di Elisa di Elisa di Elisa ragazzi Elia si è diventato Elisa di Elisa no chi è stato no il carrello il carrello carerlo il carrello il carrello il carrello il carrello è stato la fuga degli sposi via via non esce non escludo data non so mamma mia grazie o meno vita di tutti ho visto che c'è una vela 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 aspettate tornate che io non ti si va il pusha pusha lento mio push insieme no o vi sbrigate o vi sbrigate fama quella levetta non mi va l'analogico sinistro dove sono inizia pensa che li ho persi ma come si è persi ma li stavi guardando vabbè andiamo a tilt e tanto di sicuro ce ne troviamo uno andiamo pinnacoli io non commento certe scene commenti perché spara che spara io 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 ti sarei da qua sento gli spari dai cavallo di skyrim ma con il tuo ma qui ti sono dati da soli a pinnacoli si pensa la scemenza giuro che siamo no no io inizio siamo gli amore ma chi c'è vuole ma chi c'è vuole o del ruolo più no che è uscito ne fissano hanno rifiutato stanno arrivando da voi bene ho inizio demolito il nome hanno demolito a me altro che non sono ovunque ti avevo detto di non andare a pinnacoli mi sono ovunque 43 in testa 1 ho capito ma tu dove sei io sono a pinnacoli pure ecco io sto sulle montagne io ho bisogno di cure dai ragazzi crudocefalo a terra 1 in ha trato 1 insomma ragazzi ho visto adesso che è mezzanotte casca non sta facendo cura ma ma sono c'è un cecchino sulle montagne ok non mi vede non mi vede non bisogno ho bisogno del medico posso venire e yes yes devi darmi un modo di entrare in questa casa bravissimi sono morto andiamo qua sotto andiamo qua sotto ci nascondiamo qua sotto finchè non ha io zero colpi pompa dice mai di chi tasca io ne avevo due io ne avevo due colpi pompa però mi sono arrivati poco a chi lato deve finito il tipo che aveva atterrato non ma la prossima se lo so persano via a terra 1 a terra 1 venite da me venite da me venite da me mi serva aiuto mi serva aiuto se prende me di kit come fuori che vogliono eliminati siete dei truccoli liti sono un pro player via la sua scheda sta fuori qua c'è la di gol qua c'è la di gol dove la sua scheda io vado a prendere la sua scheda no ascan scontra yard a scontra yard dove cavolo sei morto dove la tua scheda ma l'ho già presa io è incredibile perché ha fatto quel box quel quella modifica strana ho detto basta sarà sarà tra yarder poi vedo lì che gli spero la finestra non capisce niente e muore sono così tanto ti spiego allora sono di tanto scarsa che faccio mi avete rinato no way a dispiare di sono così scarsa che faccio paura tra ieri ma sono io mamma mia che sta facendo un bene a jesus e poi te mi insulti è certo te lo meriti tutto ragazzi non so se ti sento che c'è un mal di giuola il mal di giuola ma di giuola masca perché ancora pinnacoli un go card può passare tutti qua prima servirebbero un paio di armi perché sapete non ne ho neanche una o due cecchini tienimi qua uno qui tieni anche i colpi tiene anche i colpi perché era tanti sono un po di mazzo madonna mia la ringrazio la ringrazio 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 oggi ha fatto un gesto gente lo taro per muro chi è che costruisce tu prendi di questo prendi di chug chug aspetta sto facendo ma che cacchio ragazzi c'è ragazzi c'era se i ragazzi c'era se io carello il go kart il go kart dov'è il chug chug sai guidare almeno salite 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 e sali dove io sto dietro e lias tu capisci che se io non salgo ci muoio andiamo guarda dove vai dove vai direzione sbagliata ehi 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 andiamo no ehi aspetta t'ha ammasso yes t'ha ammasso ti giuro oh my god noi che fai una brutta fine con me è morta la casca prendi medica chi era ilias è un ca un ca un ca io posso farmi il check jug però è inutile ilias ti venisse ti venisse il cagotto ti venisse la malattia con la c il cagotto ho fatto una burla ma che burro vada via al che mi devo fare perché se no c'è voglio veramente sono fatto 19 di vita io sto a 7 ma veramente gli assati finisse il cagotto spruzzo con il mal di pancia e più il vomito quindi vomiti e caino stesso ma non è che il tipo ma l'alasca c'è ok vero mi feca gli venisse il cagotto si ma esagerato che non avevo fatto solo a burla e in che burla avancia pal tu non ti salvi dal cagotto ti parla salire chi si fida più di te ragazzi fidatevi di gesù la retta via altro che diretta via stocca no seguite la retta via come dice jesus corretti è quello che sto fa no ragazzi mi stanno andando contro dei tipi ma fidec per non dire come dicono i milaner si sono caduto tra piccita rapino però questo basta non posso riprendere nient'altro no ragazzi avete cura vi prego ma è morta di nuovo dalla caduta a riscrive bello pensavo di fare la provata e prende tipo con una rampina un muro ma invece non è spider-man ho capito di non essere spider-man dai ma sto fallito avevo tre di vita ma inizia e altro che so contro cinque persone c'è silvia se non faceva scatti conviene chiudere live perché sto perché è così tardi che credo che direttamente mi mandano a casa bene non è ritirato a pulificare voglio attirare ok vai ma io volevo sentire la vera in trenta si succede giuri v 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 era vg giugi anche live e fidate che dopo live continuo purificato adesso te li pochi ma soltanto perché dopo le continuo io direi che posso chiudere forte facciamo creativa che è meglio che non c'è e adesso sei proprio ho fatto la burla hai capito Asuka ascolta il mio il mio audio prego aspetta però non so che non ci sa mai eh sì infatti è molto consigliabile però questo qua grido mi sa ancora di più me lo mandi pure a me ovvio che te lo manda pure a te però non c'hai no te lo manda a lei eh sì mandamelo io non mi ricordo cosa ho detto eh io ti sto mandando degli audio che so che comunque grido ok dopo lo ascolto mio dio sono 21 secondi di agonia sono 21 secondi di agonia quell'audio se no va a finire peggio di quel giorno ma stai giocando al league of legends si ma dai ora ci si fa il game la rovina dai casper ti siete specchi se ne entrano tutti già vedo che iniziano a calare adesso siamo già 5 da mo che so cari da quando li essa fatto lo scemo no no so cari da quando è iniziato a giocare al lol vabbè mi sa che mi tocca sennò io l'ho installato inutilmente ho sprecato i miei gigabyte povero giocato a giocare arrivederci mi dovrò beccare un po' di ok allora ci si fa io guarderò quell'app chiamata tiktok ci si fa una partita al lol perché si sai cosa faccio faccio partita al lol però non giocando perché non ce l'ho fisicamente ma farò il presentatore come nelle partite di calcio vai chi invita a inizia casper vai si invitano oh so appena io sono una chiamata vero aria sta peccando tira la special e che calmati sta facendo le prove che si è uscito ah c'era ilias allora aspetta un attimo che sir casper sto aspettando eccolo qua casper ma buon salve salve iliasi scrive la burla è uscito ilias si ah si è inciato perché il microfono di casper è così basso eeeh perché ti devi fare i cazzi tuoi non credo che sia un qualcosa che casper perché io credo che sia sia molto ragionevole come cosa ma chi mi invitano nel party che non ti ho invitato ah no aspetta open party ora se tu vai sul mio puoi entrare perché c'è un open party no se il gruppo chiuso adesso mi vuoi invitare basta non mi fa invitare per questo io sto lì allora io invito te no no c'è invitato ah finalmente ci sono riuscito allora Gesù fa la domani fai live no domani e domenica mi riposo anche io grazie i tre cavalieri dell'oscuro zodiaco federico nel campo di battaglia per riconquistare la contea di castleville no tu devi dire perirono in battaglia ah perché conti già sulla vostra morte si bene mi sono sbloccato karen il fidget spinner sono il baby prima di andare nixia può dire gambare gambare senpai gambare gambare senpai nixia dillo casper dica no cosa devi dire devi dire va la bocco elias se non lo dico che fai oh booooo oh booooo comunque devi cambiare nome alla live si chiama ancora fornit g sei sul league of legend vabbè è il stesso gioco si è il stesso gioco è il dente uno che cambia uno è un battaglia l'altro è tattica che cazzo chiami che ha di differenza allora si fighta in tutti e due bene fornit ahaha uccazio eh quando possono come di combatto e si uccide tra vicenda è stessa è stessa cosa c'è nepri occhi comune si combatte che sono dei videogiocchi cazzo cambia appunto no no aspettato la mentalità di vecchietti è un videogioco è uguale c'è anche una ps5 ecco no qualcolo è un nintendo di la farina di caparino rega carina negore metti quella quella spavalda di catarino l'ho mai usata oddio bella dicono che è molto bella immagino però io sai cadere con la volpe ma perché cosa contano lasciare a cali ma ma c'è quello di oddio com'è che si chiama quel cartone che fa grow in the tree ti vuoi sbrigare a scegliere non so chi camilla si chiama quella porca pure lei una queen attenzione no no sono io una queen no no inizia la queen la principessa non si è la principessa se avete sbagliato tutto esatto non si è il nostro povera ranger rosa dalla faccia riporta qualcuno però non so chi chi mi ricorda qualcuno però non so chi kine ma chi inizia karen io oserei dire porco me ma inizia che personaggi hai scelto un pochino sbanonello è uno dei più simpati però non tanto quando kine ezreal set quanto timo e altri in questo momento in questo momento gli idol sono i più simpati no no timo timo anche joe è simpata guarda lì i cavalieri entrano all'interno dell'area si sente dal gioco oppure no io ho mutato la voce chat quindi lo so gesù guerra scarponi e una falce in mano veramente lunghissima potrebbe veramente farci tantissime cose ma non si possono dire io mi sa che in niente ho però tutte le skin dei herstell spendere tutti i miei soldi qui sono i gold legends faccio schifo aspetta soltanto ma questo qua il personaggio mi deve andare in mid o in top ma puoi scegliere con quello c'è oddio in realtà non è diciamo specificato però si può tanto appogliare su entrambi con il bad bleed quindi che differenza fa puoi andare anche in top in turian x dovrebbe stare in ah vabbè siamo divisi bene però io che quando gioco league of legends push e basta i see you nightmares porco dinci perché sono andate d'ossatore eeeh le parole porco dici mamma mia un trinomio speciale eeeh dinci trinomio speciale trinomio speciale che cacchia perché li sto studiando ragazzi non so perché vedete un trinomio speciale trapezio scaleno mamma mia ragazzi raga mi sa che comunque nessuno differenza di polinomi asca mori dei porci asca mori dei porci dei porci asca mori dei porci che palle sono morto asca mori dei porci asca bisogna d'aiuto no assolutamente bisogna 104 di vita non ha cavo con questo asca ti dà ancora due vite sei morta asca mamma mia che culo che culo guarda che muove in sé che fa con la falce eh sì non le ho detto le ho detto così con così tanta calma cosa? ho detto di vedere le tette non la falce le muove in sé con la falce ragazzi domani facciamo tutti una gita a Borgosatollo ma certo una gita ragazzi qualcuno esce vabbè più che altro parlo con Gesù riesci in qualche modo a fare qualche clip delle live così li metto su tiktok perché sono troppo divertenti mi ci metto pure ti devo fare la clip del trinomio speciale travesse o scaleno travesse o scaleno sottrazione porca troppo dai i cani della preteria ragazzi qua voglio i risultati però ho fatto una kill ho fatto una kill è arrivato una ulti ho fatto ragazzi voglio i risultati ho fatto una kill 6 cil ma perché c'è un coso come palloncino perché il bro un palloncino asca 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 e si ha svegliato e rinascere non ti ho svegliato i nasci ma niente si è mutato eh guarda lì fermo casper usa casper usa tutto un trinomio speciale lo dirò addosso le persone io ho messo con le mie conoscenze uomo ciao tiragli la tua conoscenza mamma mia usa porca troia oh mi sono arriva a qualsiasi cosa usa il sistema internazionale ma tu fai lo scientifico non ho capito no faccio l'artistico si vede Gesù perché guarda c'è un minio col palloncino che è carino era carino la mia casper usa tutta la conoscenza sulla fisica sulla gravità e su tutto che si dice non è sia notazione e casper non fa niente 4 di 4 dai casper ha scioccato vada questo è buono contro quelli però almeno a me serve devo combattere contro quel ratto quindi per ora facciamo che mi aumento la vita mi sa che c'è bisogno aiuto in minio casper massa uguale densità per volume e densità uguale massa divisa volume non mi ricordo ma che mi ha preso voglio ma che mi ha preso voi due non ha comprato valeo ragazzi ma voi due che mi ha preso che mi ha preso male mi ha preso che ne so baguette buono finder buono non ha comprato no asca c'è Elias che mi manda che mi manda i video su tiktok no quanto ti spamma io non gli rispondo tanto che infame che sei voluto vero c'è la nostra scarponi che pusha contro la torre pusha contro la torre con un botto oh 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 perde molta vita perde molta vita in questo attacco la torre gli fa troppi danni è rimasta con zero di vita così tanto ma nix sta riguardando penso che si sia mutato perché sono tira insulti no no io ce l'ho venuto da prima perché prima ho tirato un 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 me maiale sono morto ha detto un dio non un un crista mio padre maiale ci voglia questa qua dentro di me comunque kain mi stra piace ma non come cioè in tutto sia come personaggio come è una falce ecco corri ti fanno a torre l'ora ho capito come si pinga ma c'è falta u no regà se fanno a torre arrivo arrivo a torre a torre è nostro a torre è nostro a torre è nostro a torre è nostro a torre a torre a torre visto che c'è questo silenzio gesù sì secondo te questo personaggio ha una storia bella o brutta quello che sto usando io beh trans quindi che povera ah orrenda bruttissima lui è era era da bambino è stato mandato in guerra ok è stata ma da dove scompa e lui doveva morire in questa guerra fortunatamente non è successo ha trovato la falsa ed è diventato un'aria ma da dieci anni sono vivo sono vivo sono vivo sono vivo sono vivo sono morto sono morto sono morto sono vivo sono vivo sono morto sono morto mettiti qui nei fratti nei fratti nei fratti cose sporche ti pinzati ah allora si però c'è fan natore c'è peccatore ti patì curati e poi riandiamo oh c'è un cazzo di peccatore no per il pecca mi ripeto per cacca con i brutti ritardato non si fottili su Twitch ma che vuol dire non si fottili davvero si è mai stata bannata no neanche da giochi allora di cosa cosa hai paura del trinomio speciale neanche dei giochi sono mai stata bannata allora io da Roblox ma dai dalla vita stata denunciata si era una denuncia falsa dai ragazzi ma come fate a bannare Gesù perché dice tua madre a un bambino possiamo morire possiamo morire signori signori calmiamoci o magari solo quello calmiamoci calmiamoci Scarponi sta pushando una millesima volta anche se sa di morirci palesemente e invece no e invece no oh Scarponi pusha no si è curato e beh si è curato ma comunque non c'ha non c'ha fu vita Scarponi sta facendo acchiapparella col bro dove vuole andare e niente a Scarponi esplode eh sì infatti a Scarponi dove l'andare ma Romani esplosa l'atto estremo allora prendiamo un po' di mano non capisco che cos'è questa roba ce l'ho tutti compra 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 questa mi ispira a lei la prende perché l'ispira non perché serve mi ispira perché mi dà sia vita che preferisci una cosa bella una cosa funzionale una cosa bella ovviamente ti vorrei apresci una ferraria che ti porta a 100 o una panda e ti porta a 300 ma è una donna la panda che ti porta a 300 però ti fa schiantare una cosa in più che non ha la ferrari oh oh scarponi mamma mia mamma mia scarponi ha fatto una kill seconda kill guardate guardate si accalmati guardate potrebbe potrebbe fare cose mistiche oh fuscia la torre levate vita la torre fuscia la torre ma prende un casino di danno oh 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 in aiuto c'è c'è nix eh non è nix c'è nix e caspero in aiuto oh madonna che sto perdendo tutta la vita c'è un phantom boy ventunesimo che insegue asca e glielo mette nel baugigi nel buongiorno digio asca e lei burla di vita forza a roma io e caspera ormai abbiamo preso il mood nella fine comunque vuoi vedere un attimo dove siamo noi eccoci dai vabbè due kill sei morti madonna in effetti poca vita c'è solo mille e quattro no ho un catalizzatore ma fa un giro se usavo l'altra vita lo faccio fuori oh no fa un cina madonna manco mi sono avvicinato già si è esploso asca ti tirano un colpo e ti toglie via un decimo di vita non mi ha fatto un boy ma madonna asca ti ha ti ho salvato la vita no asca ti ha in realtà io ero diventata quel tizio cioè la mia ulti praticamente mi cioè non so se hai notato tipo la falce sopra la sua testa ecco ero io dentro il suo corpo eh sì ma comunque tipo troppa voca vita eh sì perché c'è solo grazie a me adesso grazie a me perché io sono adesso sono morta grazie a te quindi e cazzo vuoi porco no ragazzo risotto ho bisogno qualcuno come casper casper vini come sotto casper vini come sotto e oh porca chi chi io dimmelo casper dimmelo no c'è un mostro è tua madre dai asco che c'è sta qua dentro un romagnolo oh vuoi salire qui caroia chi se ne pensa a kill tu io ma io mi porto ma che risotta malefica da parte di casper che deride a scarponi in una maniera veramente burlosa casper c'è la aspetta emilio aspetta emilio stai nel bing killing per fuori è mezzanotte e mezza e sto giocando a league of legends cazzo è mezzanotte e mezza e io sto gridando casper levati no ma non mi dire non mi dire e mica sto solo per te minio casper aiuto non è che mi risalveresti la vita no 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 sì ma il gioco delle abilità non l'abilità non c'è sto facendo la ultima non ha fatto un cazzo con calma no in cina cosa sposti il cosino sta fermo è il cosino è il cosino l'obiettivo è stato fermo è stato in mezzo cattino prendi porco dio che sono di un livello più alto di te mi rubi tutti mi rubi il figge spinner ma no prendi conto fai il figge spinner questo si chiama league of legends fai il figge spinner ci hanno fatto la torre lo capite ho capito ma se non dipendiamo qua mezzo via di mezzo dio di mezzo dio di mezzo ahia usi ben ho visto lì in mezzo madonna tante robie ho visto lì in mezzo ed ho fatto una chiesa perché perché dio è miracoloso no perché io te l'ho lievato tutta la vita ho usato le cure ovvero che vanno anche su di te guarda come compra guarda come compra guarda come compra qualsiasi cosa esistente muori cesca tu vedi vedi che puoi comprarlo lo compri ho i soldi bene stai andando abbiamo la torre qua stiamo andando davanti a cosa no non c'è più la torre io i minion guarda che c'è set che ci aspetta davanti c'è il nostro collega guarda dobbiamo aiutarlo guarda muscol set guarda che figo guarda guarda dai settimi insieme a cantare su quel nuovo pezzo questa la posso capire io scusate dentro a gambate andoti il ciolone furla la tua resa nixia nixia ha sentito ha sentito la parola del risveglio nixia perché hai risposto a quella parola ci sono priorità io ho detto niente casper vorrebbe proprio tagliare la gola a qualcuno non è l'unico mi taglione bene in verticale senti proprio la sua risata è lì ho detto casper hai dieci giorni di vita ho detto niente io lo risorgo al terzo giorno mi insegni come cristo no no boh vediamo se ho il calcetto con gli amici no mamma mia ragazzi ascarponi fa l'assalto ma no come che cacchio stavi facendo volevi entrare nell'albero no non voglio dire sono stato ucciso mamma comunque non vorrei dirtelo però non mi non mi non mi salva le clip guarda cosa sto mandando potete vedere l'emoticon vero casper scimmio casper una scimmietta compare di blu probabile compare di blu quel siciliano siete compari oh picciotti belli siete compari erbicio solo che uno è sudamericano e l'altro è siciliano quindi ho salti i muri spiderman lui fa spiderman per passare il confine no usa i mexic no 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 di livello 12 quello mi fa paura quello mi fa paura è di livello 12 come l'ho batto no è livello 13 comunque non è giusto set mi ha rubato una kill mi sento no asca non è che ti ha rubato una kill è che ti hanno shottato fortissimo ogni volta no è di livello 13 o 12 io come faccio a battere tu asca devi trovare qualcuno con preghiere lo faccio cioè come giocare praticamente un uomo cresciuto di 40 anni contro un neonato perché non ci sta nessuno in mid i danni a preghiere di faccia di preghiere vado contro il ratto va bene prendi livello 13 rotto oh c'è due o c'è tra un mano la base è stato veramente però insomma veramente va distrutta un'altra torre si ho ucciso uno vai a sca distruggi quei minion 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 c'è un drago il drago il drago di komodo sono in tre sono in tre sono in tre calmati l'ho ucciso casper calma di quel giorno ci fu la morte decisi due casper 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 devi fare la mossa la mossa della differenza di polinomi si però non ho l'abilità quindi non la passa no no e chi l'ha vissorato devi solo creare in te stesso e chi l'ha vissorato sbocato da nulla sto ratto maledico ci hanno sputo di vita la loro torre comunque e quale? quella che stavo sceglie nel nome del re nel nome del cristo padre nostro che sei nei cieli no no che schifo che schifo che schifo che schifo che hai fatto no e niente oh qua sopra intoppo la nostra c'ha troppo poca vita ma casca è proprio andata ogni volta casca adesso adesso puoi distruggerla con la torre vai è mia torre usa tutto il potere che hai ma nixer potere nerf miner io sono morto kawaii ti esparmi nerf miner dentro hanno appena ritornato potere voi vedete le emoticon a sinistra in alto a sinistra infatti mi ha dato il coso delle fk io perché io stavo giocando lo star nel frattempo giocate guardate in alto a sinistra in alto a sinistra vedi un granchio incazzato cari voglio cari senta già distrutturatore cari no calma mi si stranete brutto brutto caccafobus schifo si cristo cristo però c'era non c'era nessuno si è comparsi in 18 vai 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 stai facendo nasca però se c'è ancora lo shield sai non c'è vai asca no asca faccia fai no no ma c'è che rinasco dovrò far qualcosa mentre rinasco ma casper che stazione che che faccia clicpare aspetta aspetta non mi ricordo a così ti prego di un bisogno no ragazzi stanno mandato e vuoi vedere la clip aspetta io odio sto morendo devo vedere la clip ma perché la clip è in 440p cioè in 144p 140p buono ma che schifo no asca non me la carica madonna mia ma cosa volevo caricare su tiktok sta clip si voglio vederla io la clip oppure devi caricare su tiktok ti hanno capito mi vorresti vedere fammi vedere la clip ma ho preso perfetto l'inizio della clip aspetta 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 qua sarebbe il qua sopra se quello il set c'è qualcosa io no anche io sto fa qualcosa mi sto impegnando è qualcosa 315 l'importante che ho diventato la torre tre volte tu sei un fidget spinner almeno ho fatto qualcosa si un fidget spinner e tu hai un'armatura io so petto nudo come la mettiamo non è che cambia la vita su sto gioco se hai fatto col culo hai fatto poveri minion ma si meritano tutto il malessere di questo universo comunque asco ho caricato la clip in cui bravo il nostro caro gasper apre clash addio ragazzi novi maschera va vero all'invita 6 cosa abbiamo visto gesù siete venuti a trovare rispondi rispondi ho visto non ti ho fatto la clip sono morto mi avete mi avete battuto il 5 poi siete tornati indietro niente è andato anzi mi avete dato il testimone capito non ci credo inaspettato è stato bello all'inizio che casper dice i tre cavalieri muoiono i tre cavalieri muoiono per tu è la conoscenza ok allora possiamo chiudere qua dai un'altra divertente sì però ti ho fatto che è un clash royale che è un puto purututum oh purututum oh dai un'altra ok hai morato dall'elisade quindi non puoi dire che non puoi dire che non puoi dire che non puoi dire alessandro moro è un altro streamer quindi se volete andato a seguire starà streamando no adesso no nel offline fino a poco qua sì però perché mi inviti oh siamo io e Nini siamo nel gruppo no entrate nel mio gruppo mi invita allora madonna Asuka Asuka usa il suo potere per dire no tu fai questo il pidino sì il pidino io decido voglio vedere la clip non è troppo divertente ma io posso scegliere tra fidgete spinner o riven no fidgetto ma ce l'ho già io c'è ma io c'ho il laoi e riven no 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 ma adesso io io e poco e rimane casper 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 tipo senza paura senza paura per perdere qualsiasi cosa senza paura alessandro ne fa una e poi dorme bello Asuka risponde va bene due punti chiuso parentesi va bene due punti chiuso parentesi una semplice ragazza a 17enne si vede si vede e fa video divertendosi si vede cercando di realizzare il suo il suo piccolo sogno sì ma comunque casca c'è spero c'è una virgola e se maggiusta strappare un sorriso farmi divertire punto senza mettere spazio dopo anni finalmente sono riuscita da ok ci siamo piedi sta l'escrizione comunque eh vabbè capita masca ma io posso flexare il banner vero sì eh ma io godo non posso parlare su chi su chi sami su chi pull no pisa mati mamma mia casca masca dice dove la chi non c'è su twitch asca risponde loro due sanno pochissimo di roll ma di troppo di troppo so io 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 tu non lo vedi dall'anni de cristo ragazzi io non mi vede dicono che non vedi il sole dai tempi tua madonna calma ti penso ci gioca da anni e basta vedi che non è difficile livellare su lol ai 9 spec che sei che sei ai 3 spec non 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 perché io ne vedo 9 no io metto essere perché per esempio non pide o e ne vedo 2 aspetta un attimo vabbè o p con il sbrio anche io ne vedo 9 voglio mettere un attimo che cosa è ancora la mia strada mettete gli immagini da spettatori oriana oiella ahoyenna asmermiu casper ma è appena uscita ma 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 zink voton io dopo allora tu hai top ok ma sì facciamo così perché tanto il conto c'è tanto no non mi ricordo 16.200 di sti punti nix era 26.000 madonna dovrei aggiungere altri suoni dovresti mettere qualcosa che manor quello super bus boost dovrei anche mettere qualche cosa a te manor le valo secondo me sì tipo the feed metti il mio audio di whatsapp a 100.000 punti canale si ma ci sono quelli che si mettono in live a farmare soltanto quelli per quello ma tu non bavi no no ma te hai modo di mandaglielo anche a casper sì sì io a casper abbiamo un numero cioè io c'ho un numero di casper cos'è che sti pensate era scudo di doran lama di doran uno è scudo l'altro è lama uno attacco l'altro è di fai io prendo attacco non me ne frega niente allora abbiamo il jungle e questa è una cosa buona anche perché non siamo capaci a fare il jungle io ho problemi in jungle non so perché io vado top mi dicono che sono brutto e si cazzi mi dicono che faccio schifo e si cazzi ma se io metto una mano su pasta S cosa viene fuori oh casper ricordi che siamo in live ancora e vabbè c'è masca c'è stex che se frega sì lo so già uno è che l'aiuto ma no ad asca piacciono i propri personaggi con poca vita cioè asca letteralmente ti toccano esplodi no adesso no adesso non mi fanno così bello eh ma dipende se te ne trovi uno di livello 13 come prima eh ma siamo tutti a livello 1 adesso sì lo so all'inizio sì però intendo dopo dopo è un altro conto dopo mi potenzio dai che dopo mi sa la vita eh no dubbi o dubbi guarda adesso come muori per i minion voglio mi qua perché quanta vita hanno casper casper quanta vita hai tu 700 800 eh vedi 200 in più eh ma io io te inizia io sono io ah ma sì ma sei una sei mila di vita ecco asca cosa dicevo ti ho toccato mezza vita la nostra eroina cosa cori cori che te fannatore cori per proteggere la patria e la madre pata non c'è sta se non cori madonna quanti c'è nessuno che figo però il personaggio con ogni tipo mezzo cavallo mezzo uomo mezzadonna sono un bugliardo non mi ricordo mai che si chiama aiuto non ci stanno manco i minion vecchi alivano oh state fermi che mi metto e guffie chi si muove e guffie guarda proprio come si sistema i capelli e muove quella gambetta tipo eh sono un snodabile ahia mi fanno la bua mi fanno la bua mi fanno la bua brazzo qua c'è le mani lunghe il napoletano ehi 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 è rumeno c'è le mani lunghe sono che non hai detto niente ehi c'è ma qualcuno che mi aiuta in mid magari è un po' complicato visto che sto contro due che se non ci sto io qui la torre sarebbe tipo puff si vengo one shotato è quello il problema ragazzi gesù deve fare puff ah ciao ciao gesù all'atto dell'abbandono è arrivato il momento dell'addio addio 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 intanto io mi mangio delle sarmale però e niente e niente e poi chiedo che mi fate aiuto perché qua sennò ci vanno ad ore dai io vi faccio puff bye 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 we perché asri dici un'isame app cioè boh non lo so per non perderti non ti serve per non perderti una mappa non lo so io e se dice un inizio map vabbè se non vuoi perderti forse ti serve io dove siamo una kill a 8 core de minion una funzione avete fatela mi ha spiegato l'abilità è strano sì ma quanto fa quanto danno fa questo in due abilità mi ha ammazzato io in due l'ho fatto me la vita c'ha 1200 ai 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 e la mia prima chi no la mia seconda chi che bello c'è la mia seconda morte non dire c'è no 4 perché ogni volta vado contro 2 io pure sto contro 2 sì ma il tuo non ti fa 3.000 non è un livello 7 spero no sono entrambi livelli 5 non è molto easy sai com'è di livello 7 7 io sappia 7 maggiore di 5 ah ho capito che c'è contro ah ha 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 Posso uscire dalla partita? No Che rotura di Perché devi uscire dalla partita, scusami Perché io sto morendo sempre Con la stessa ragione e non posso neanche farci nulla Perché non c'ho soldi per proprietare niente E stiamo lentamente perdendo la vita Della torre centrale Cercano di avanzare I più minimi possibili Ma comunque questa qua Riesce comunque a shottarmi Capita Purtroppo capita Quanto ho di questa abilità di mass fortune Finalmente Ma io non vado più in mid Attaccate Io non vado più in mid Sbagliato ho lanciato il cerchio Tanta fine ci muoio soltanto Provo un attino sul low Ma come funziona sta cosa? Io non ho capito Cioè Non si può ammazzare uno che sta così Che è questo? Tanto abbiamo i potenziamenti del drago adesso Dei draghi Non voglio più andare sopra C'è stato quello là che è di livello no Arriva a darti una mano sopra Almeno siamo in tre Tanto ce la fai in qualche modo Magistratore Ma non mi dire In unexpected Vuoi fare l'abilità? No Non la fa perché è ritardato Basta Non si può fare Sì Sì Sto qua si è fatto tutta la mappa per ammazzarmi Sì si è fatto letteralmente tutta la mappa per ammazzarmi Io esco Giuro se mi ammazzo un'altra volta quello lì esco Ma il bro si è preso tutti i potenziamenti di vita secondo me Fa vedere No il bro ha semplicemente tanta vita Io vado su e se mi ritrovo ancora quel spezzente C'ho 300 di vita in più Non mi servono pure Attack speed Vai Buttiamola lì La nostra attore Sta mosca Oh Non dove sei sbocata fuori tu Sì ma il personaggio non vuole andare via dalla torre Cioè Come Com'è Cioè se io clicco per andare via il bro si rimane lì fermo Aia Miss Fortune fa male Sì ma la torre in mezzo l'abbiamo persa Sì perché tu non hai incontrato la tizia in mezzo Chi era? La Miss Boom Boom Eh Miss Boom Boom Quella Miss Boom Boom ha fatto spade più delle morti che c'ho Addio torre Io non difendo più il mezzo eh Voi non avevi capito Ecco già questa cosa è sbagliata Sì se andiamo in massimo eh Eh ci stanno pure a fa Se andiamo in tre magari No Sì però ci stanno attaccando anche sotto Pensiamo un attimo a quella sopra Almeno Certo che quella sopra Io sto per morire qua Ma no Con un abilico con uno sparo Qui ci sta pensando lei Cioè lui Niente questa washout mi scioglie Posso uscire Io in questo gioco è stata tanta sofferenza Sì Vieni un attimo sotto con me Inizio Casper vieni anche tu sotto Aspetta Sopra con uno Per aiutarlo Ok La Nella Inizio In mezzo No No Bassa Dov'hai No Bassa Vai colpisci Colpisci Aia E vabbè Anche il drago Pure il drago Mini C'è tutti insieme così? Livello 10 Non mi potrà mai vincere Quanto adoro essere Che c'è un abilità Per correre via Certo Con una Con una Mossa Sì Stanno già dentro la base Qua Miss Boom Boom Ha già fatto Il Boom Boom Quindi è già entrata Non perde vita E toglie tutta la vita Con un colpo Che personaggio è? Con un'abilità Non è fattibile Non è fattibile Cioè per farti capire Veni one shotato Da quella lì Non la riesce ad ammazzare C'ha uno di vita Sicuro di più di quanto perdi Cosa è diventato Kirito Madonna Mi ricorda Kirito 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 In un episodio dell'anime Se veniva colpito Da dei nemici Si curava di più Di quanto danno riceveva Mi ricorda letteralmente Quel punto Sì ma Comunque Andate a vedere Cioè Solanto in due hanno 40 kill È vero No Non stanno carriando No Per niente Eh vabbè E di che c'è Questo qua C'è le mani lunghe Il brus si deve calmare Però Ma che la vuoi una camomilla Dopo questa Io Sì ma è resso Una dollina Madonna Qua c'è la penta È tornata a me Sbombo Eh niente Io rimango nello spawn Che mi dia pure l'fk Non me ne frega niente Io non esco Tanto Si curano di più Di quanto danno Gli facciamo È inutile Ai 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 Ma io ho cominciato a giocarci Perché mi trovo contro questi nemici Non ne ho più prene idea C'è in teoria dovrei trovarmi gente Scarsa Anche loro hanno iniziato In teoria Cioè per farti capire Miss Boom Boom Si è buttata persino Nello spawn Per ammazzarmi Indovina un po' È morta Comunque Leghi Non Lea Che come si dovrebbe scrivere No Leghi Porche miseria No no Io non Io non No no Chiudi Chiudi Arrivederci A mai più Cioè Avete proprio fatto Alte F4 Potentissimo V2 No io no 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 Io non Io non ci rientro più Su quel gioco Vabbè Io direi che si può chiudere qua Io non ci rientro più